E' tempo di voltare pagina, in questo momento, adesso, il passato è passato, ti servirà il passato a considerare meglio le cose da fare, gli errori commessi, ma adesso è tempo di voltare pagina e nel momento stesso in cui lo farai, un'altra pagina la dovrai scrivere con nuova possibilità, con nuova visione, è tempo di voltare pagina, quello che è stato è stato, non è che ci dobbiamo scordare del passato, ma è venuto un momento di fare i conti con il presente. Buona giornata.